Buonasera, sono Roberto D'Affrassi e questo pomeriggio ci troviamo nelle cantine di Fattoria Svetori. Fattoria Svetori è un'azienda agricola che si trova nel comune di Montecurciano, provincia di Siena. Ha un'estensione di circa 30 ettari di vigneto e produce vini rossi, prevalentemente, come quello che abbiamo in decostazione in questo pomeriggio. Questo vino si chiama Leo, è un ingitto in Toscana. Cosa ha di speciale il Leo? Il Leo è un vino rosso di Toscana prodotto comunque di Sangiovese per circa l'85% e di Merlot e Cabernet Sauvignon. Sono tutte uve che vengono gestite, tutte uve provenienti dai nostri vigneti, che si trovano qui, vicino all'azienda. Vengono portati entro poche ore qui nelle cantine, vengono vinificate e poi iniziano un percorso di affinamento. Dietro di me si trovano le barrique, dove questo blend di Sangiovese e di tini internazionali, come si suolta definirmi, rimane in questi contenitori, in questi piccoli contenitori, per circa 6-8 mesi. Quindi questo vino fa, nel suo carattere, la freschezza aromatica e una presenza anche di legno proveniente da piccoli contenitori. Ha una struttura frescofruttata, molto brillante e croccante. È un vino che lo possiamo abbinare a tutto pasto, come si suol dire, come un antipasto per finire anche a piatti più strutturati. Quindi è un vino che rappresenta la freschezza anche dell'annata e l'espressione dell'annata appena avvenuta dopo quei mesi. Grazie.